Pronto? Casa Ferrari? C'è Paola Pinuccio sono, grazie. Beh, veloce. Paola Pinuccio sono, mi dispiace. Guarda, veramente, una professionista come te, così sobria, ad insultarla non si può sentire. Hai ragione, hai ragione. Sì, sì, no, no, veramente, guarda. Sì, che vuol dire che lavori alla RAI e che ti pagano le persone col cano? Non vuol dire niente, comunque uno non può insultare, no, 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 no. Quelle belle trasmissioni che fate così intelligenti sul calcio, tutti questi esperti, no, 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 veramente, guarda. Non si può, non si può, no, no, no. Tutte queste cose interessanti che dite prima delle partite e dopo, guarda, non si può, hai ragione. Quindi, io ho parlato con l'avvocato. Sì, adesso mi devi dare i nomi di quelli che dobbiamo colerare. Eh, vabbè, vabbè, Twitter l'abbiamo, eh. Google, che dici? Ma sì, ma è pure la Apple, mettiamo pure in mezzo. Senti, chi altro? Caronte, Lucifero e Minos. Sì, sì, che hanno stancato col caldo, che poi uno è costretto a portare le scolature. Ma stiamo scherzando, si deve coprire, che poi insultano, no, 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 hai ragione. Poi, che altro? Uè, Balotelli. Eppure Balotelli, come sì, chi se ne frega. Il chirurgo plastico, va bene. Poi, chi altro? Quello delle luci della Rai? Perché? Eh sì, è vero, è vero. L'avevo notato pure io che quando stavo in trasmissione sembrava la Madonna, la Madonna della Scala, quando uscì. Troppo illuminata, troppo illuminata. Hai ragione. Se denunciamo tutti, che ce ne fregano? Facebook, pur, se... E la presa a scart, da dove si attacca il computer? Pure quella, dai. Pure il ferro da stiro. Quelleriamo tutti, che ce ne fregano? Aspetta, che sta Sabino che ti vuole suggerire uno da quale Rai. Sabino, chi vogliamo quale Rai? Quale è la staminchia. Ha suggerito un nome, ha suggerito un nome. Beh, mi raccomando, Paola, stai su e non da retta, e non da retta. Sì, non ti preoccupare, stai su. Tante cose veramente. E continua con le trasmissioni intelligenti che fai. Ciao, bella, ciao.